Questo secondo Starfire Royale dovrebbe essere un borde d'argento No! Ciao amici di Youtube, qui con voi è Shalibum6 E oggi siamo un nuovo video Oggi ragazzi, come avete detto dal titolo e come avete visto dalla miniatura Siamo ritornati su Clash Royale In compagnia di mio fratello Ciao! Eccolo ragazzi, proprio lui, fratello biond Niente ragazzi, come ho detto prima Cioè, come avete detto dal titolo e come avete visto dalla miniatura Oggi andremo a sbloccare un baule speciale Quindi ragazzi, faremo delle battaglie per sbloccare questo baule speciale Quindi ragazzi, prima di cominciare Un bel like Quanti like raggiungiamo? Io credo di raggiungere almeno 800 800 mi piace, mi hai letto nel pensiero Quindi ragazzi, 800 mi piace, mi raccomando Per questo super baule che andiamo a sbloccare Un bel commento e iscrivetevi al canale Ragazzi, prima cosa da dire Dovete guardarvi il video fino alla fine Per vedere lo sblocco del baule Quindi ragazzi, questi tre bauli ce li andiamo ad aprire alla fine Quindi faremo anche un mini chest opening incredibile Però ora ci andiamo a fare prima una battaglia Con questo deck Se non avete visto il video precedente della fuorileggia Ve lo lascio in descrizione e andatevelo a vedere È fondamentale È fondamentale, assolutamente Quindi andiamoci subito a fare questa battaglia Speriamo assolutamente di vincere Allora El Proaso Bangladesh 71 3581 coppe Va bene Allora Lui mi mette il cavaliere Lì Mi mette il cavaliere con la gang Però io faccio così E va bene così Se lui magari mi mette No, vabbè Non voglio sprecare niente Il domatore è andato Così in hit Sotto turre Buono E a me davvero mi sta benissimo Benissimo Ora servirebbe una sfera Siamo messi a merda Ecco Allora con calma però Vai fuorileggia Dai Il goblin c'è botanile è morto A posto A posto Qui devo mettere una tronco Va bene Dai Siamo in vantaggio E questo è ottimo Vai, vai, vai Vai cavaliere Ma se arriva sotto turre Ma purtroppo non ci arriva Non ci è arrivato Allora Lì mi mette la gang Io la distraggo con i miei spiritelli del fuoco Questo dicevo Ma la potevo risparmiare Eh vabbè sì È normale Posso risparmiarmi Però il goblin c'è botanile è andato sotto turre Niente Vediamo se possiamo fare qualcosa con Eh no niente Mannaggia Però magari Inferno A metterci la sfera infuocata Vai, vai, vai Ti suggerisce tutti Non sarebbe male come idea eh Eh infatti Perfetto Non hai preso la Mannaggia Ma come cazzo hai fatto Non ho preso la torre infernale Però il domatore Lui Ora col suo domatore Ci fa davvero un male cane Eh voglio Ora dobbiamo Assolutamente ripartire Vediamo un po' Se ci riusciamo eh Ora è vantaggio lui però No non ci riusciamo Si è difeso benissimo Con il cavalere raga Mamma mia Davvero Che difesa Bravo 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 Gli devo fare i miei complimenti Qui Una bella tronco così Tattica Perché il goblin c'è botanile Non ce lo voglio far arrivare sotto turre E niente raga Ci prende la turre eh Difenditi Quindi lui ora deve Difenditi No vabbè Che cacchio mi difendo a fare Partiamo Enzo Dobbiamo partire Eh si dobbiamo partire Il domatore sotto turre No 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 Che palle Il domatore non è arrivato sotto turre Purtroppo non è arrivato il domatore sotto turre Qui mettiamo degli arcieri Mettiamo questa Mettiamo questa Mettiamo questa Non lo dobbiamo far giocare Brava fuorileggia Bravissimo fuorileggia Non so È perfetta la fuorileggia Quando fa così eh No 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 Dobbiamo cercare Di fare Non farlo giocare Di fare più danni possibili Con la fuorileggia sotto turre Bene 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 Facciamo così Non lo dobbiamo far ripartire Assolutamente Assolutamente Non lo facciamo ripartire E dobbiamo fare anche Un po' di danni Ma è spiritello Ma è spiritello Perfetto Perfetto è un parolone Però va bene dai Su per giù Ne è andata Oddio Ti è andata benissimo Facciamo così Bene È pareggio No Per poco eh Andiamoci a fare la prossima battaglia Bella Dai prossima battaglia Hog Riders E il suo clan Lui si chiama Erz Ok 3.595 coppe Allora Potremmo partire Così Con un Volevo mettere il cavaliere lì dietro Però ho messo gli arci Vabbè Vai 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 Apposto 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 Però dobbiamo staccarmi Attacca più che puoi Eh ma non posso Cioè come faccio Credici Ok Però Credici Vedi Si perdono le partite E non ci hai creduto tanto Un'altra assolutamente Perché dobbiamo Porca miseria Ok mettiamo una bella sfera infugata così Come detto Sfera Vai domatore Vediamo se ci riusciamo a fare dei danni No 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 Ma di quanto Però Il domatore Di sotto la fornace Però una botta Due dobbia Due botte Due Sì Ottimo Direi C'è un deck strano C'è un deck un po' strano Però Io ti metto Una bella sfera infugata lì Che ci sta tantissimo Gli arci Arrivano sotto Torre Va bene così Ripartiamo con il domatore E gli spiriti del fuoco Abbiamo fatto un sacco di danni alla torre Danni molto importanti Eh sì L'abbiamo fatto L'abbiamo fatto Però il domatore arriva E due botte gliele dà Ok Va bene Spero E credo che questa partita sia vinta Poi Enzo Non porta sfiga Non si sa mai Lui ha messo una fornace lì Ecco Tu me l'hai chiamata ora Cioè Come si vede qua È stata un po' inutile Ma le germe Cioè Dai Me l'hai chiamata qui Gli arcieri grandissimi Sono arrivati sotto torre E hanno preso la torre Mamma mia Mamma mia Che trunco Enzo Enzo No vabbè Non ti preoccupa tanto Vabbè buono Buonissimo Dai questa partita è vinta Questa partita è vinta Questo secondo Starfy Royale Dovrebbe essere un muro d'argento No Magico Credo che fosse quello là Dopo il baule magico Invece questo Eccolo qui ragazzi Il baule sbloccato Eccolo qui Facciamo un bello screen Andiamoci ad aprire questi bauli 3 skip 91 di oro Epica Sgherro Epica Ordo di skater Epica nel baule magico Andiamoci ad aprire questo baule d'oro 69 di oro Capanna goblin 11 in bombarolo Un altro baule d'argento 3 skip Un donatore Epica 10 pipistelli Ed epica Principe nero Nel baule d'argento Grande Principe nero Altro baule Omaggio 3 skip 2 gemme 10 frecce E 2 fornace Me ne manca una Per portare A livello 8 Va beh ragazzi Se questo video è piaciuto Mi raccomando Lasciate un bel like Abbiamo detto prima 800 mi piace Ritorniamo su clash royale Ragazzi Mi raccomando Supportate al massimo Clash royale Che in questo periodo Sta accadendo Però con il mi piace Sta andando davvero Molto 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 bene Ragazzi Dateci dentro Dateci dentro Ragazzi Commentate il video Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se ancora ne avete fatto Da me Dal baule magico sbloccato Da mio fratello È tutto Noi ci vediamo Al prossimo video Bella